Perché il panorama dal tuo balcone è molto brutto, il panorama del mio balcone è più bello del panorama del suo piano tesa. Fammi sentire che ho un stato costrutto. Perché hai messo un articolo? Ma se è un stato costrutto come faccio a fartelo sentire? Cioè, ti dico itlala? No, itlala tushurfati, basta. Itlala tushurfati? Sì, è stato costrutto perché c'è la yap. Ok. È stato costrutto non significa che deve avere sempre un articolo. No, no, è sempre un nome possessivo. Itlala tushurfati ajmal min itlalati. Loro escono di casa prendono l'autobus e parlano con l'autista riguardo alla strada. C'è una strada o la strada? Asha... Asharia con l'articolo. Ah, ok. C'è l'articolo quindi? Sì, sì, sì. Forse te l'ho mai letto. Leggi le cose scritte che prego. Ok. Poi, a scuola l'insegnante ne piccia sempre. Di madrasa, al-muhallim, yadribu-fun, daima. 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 Sì, 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 sì. Maschilla, maschilla, maschilla. Sì. Quindi... Aida yadahuna ma unni sadiqataihim adattan fil-masaq. Fil-masaq. C'è un articolo. Tamam. Giusto? Giustissima. Eh, ma me la so' pensata questa. Ahahahah. Una frase lavorata davvero. Eh, bella questa. Potresti farla anche tu una cosa del genere. Anche questa secondo me. Ahahahah. Perché? Ah, e con la prossima. Ahahahah. Tamam, tafadda. Numero 9. Indossi, tu femminile, i tuoi vestiti per uscire? Sì. Allora. Al... Talbassina almalebisika vi... Eh, litaklus. C'è un sbaglio banalissimo. Come si dice il mio libro? No, chi 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 chi. Almalebisiki. Come si dice il mio libro? Kitabi. Quindi non è al kitabi. Bravissimo. Uno ho messo il maschile, due ho messo l'articolo, quindi no. Rileggi. Penna rossa. Al... ehm... Talbassina almalebisiki... Litaklusi. Ci manca il caso grammaticale dei vestiti? Sì. Sì. Prima tutto. Come sarà? Al... Talbassina almalabas... No. Almalabas... Talbassina almalabisiki. Di nuovo hai messo l'articolo? No, no. L'ho detto ma l'ho cancellato. Ciò non lo studio io. Al... Talbassina almalabisiki. Litaklusi. Sì. Ok. Così giusto. Un po' di regolini però dai. Tanto era quella di prima che era difficile. Sì. Eh... Eh... Dopo due ore ho deciso di tornare a casa e per strada ho comprato un chilo di arance e mezzo chilo di banane. A casa ho guardato la televisione dopo ho telefonato il mio amico Hassan e gli ho chiesto del suo lavoro. Ho chiesto qualcosa riguardo al suo lavoro. E alle 10 sono andato a letto. Quindi, ho chiesto di temi casa. Un po' di vedria. Ho chiesto di tempo a casa. Qè sono amaci addice. Come se è chiesti da pagare il poundante sottotgetto, qui hai incerti di esano l'arca, E ho chiesto di riso. In calcino di cash. Quindi, ho chiesto di casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, prolunga bene. C'è una raccione. Leggi con tutte le vocali, per favore. Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Aspetta. Eccoci qua. Ok. 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 Ok.